Allora, ciao a tutti. Vorrei annunciarvi che stasera alle 9 ci sarà la mia intervista su Bici, un sito di fama mondiale appunto. Lo trovate stasera alle 9. Trovate anche delle mie foto e appunto la mia intervista che è stata fatta. Ho condiviso anche il mio link su Facebook nell'intervista dove ritrovate proprio il sito così andrete a vedere. Saluto Fabriano che mi ha dato l'opportunità appunto di fare questa intervista e lo ringrazio molto. Quindi stasera alle 9 troverete la mia intervista. Detto questo ringrazio Fabriano per avermi concesso appunto questa opportunità e lo saluto. Ciao a tutti.